Il papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di due tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il quinto anno all'Itis da Vinci di Portogruaro e a 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo. Quinto giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto Orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla. Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura scivolata da un cavalletto. Due tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, spisa, il vigile del fuoco, il via vai del dramma, poi mamma e papà, scovolti. Affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti. Cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza dei ragazzi in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola di alternanza e lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme perché oggi è capitato questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13, voi siete sicuramente genitori anche voi, non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo, so solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista, vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. Industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? Grazie. 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 Grazie.